mi trovo di servire il cibo, per due metri, per due metri, per due metri, per due metri spi, spi, spi io ho seguito il terreno di un po' questo è tuo ah ma piove se vuoi? ah ma non sai che tocca a me così, mi dà una noia molto bene eh ma, se vado dopo qua, per vedere a serie ma no non lo so, non lo so bello no, è bello, l'ho fatto bello, ragazzi, hai fatto da dire anche l'idea di quello che hanno fatto, insomma, un parco giochi questo è come il democorso stichissimo sono molto buoni hai visto? ah ma anche qui che Grazie a tutti.